Al Capitini di San Giacomo e finale trailing, la Trasimeno beffa la Ducato Spoleta al 47esimo con un rigore di Bracca Lenti che fissa il 2-1 conclusivo. Tre punti pesanti come Macigni per la truppa di Farsi, stop che fa male invece il secondo consecutivo in casa per l'11 di Raggi. Anche stavolta il tecnico Spoletino ha problemi di assetto, mancano entrambi i laterali di sinistra, davanti alla difesa c'è l'esordio del 2.1 e i mili, in attacco però è la prima assoluta dall'inizio per il tridente Colato, Massoni e Cardarelli. La Trasimeno ha pronte le contromisure e oltre al recupero di Vinagli in mezzo al campo cambia solo Meattelli per Patrignani rispetto alla formazione che ha battuto il Gualdo. L'inizio è combattuto a centrocampo, poi i padroni di casa mettono in fila 4 chance prima del riposo. Al 24esimo minuto, Massoni pennella la punizione, Cardarelli si libera allo stacco ma indirizza alto a botta sicura. Sette minuti più tardi, al 31esimo, l'assalto parte ancora da calcio piazzato, stavolta di Cavitolo, su cui Cola fa scudo col corpo anche col portiere ma poi non riesce a coordinarsi per inquadrare il destro nello specchio. Nel finale, le due occasioni più nitide, al 39esimo Cola è innescato Massoni che punta la porta, rientra sul destro ma sbatte sul tuffo in emergenza di Rossi. Il portiere Lagustra è provvidenziale pur a seguire, minuto 41, quando Cavitolo piazza il break sulla tre quarti e taglia per Cardarelli che disegna il piatto destro per cogliere in controtempo proprio Rossi che invece ci arriva. A riposo così è 0-0, verdetto rimandato alla ripresa. All'ottavo Cola produce un balletto dei suoi e finisce a terra tra i difensori, per l'arbitro è giallo per simulazione dell'attaccante. Subito dopo il vento gira e la Trasimeno si scuote. All'undicesimo Ventanni e Bracca Lenti costruiscono un destro smorzato in angolo dalla difesa, al tredicesimo invece il vantaggio è servito. Ventanni scappa sul lato sinistro dell'area e tira, Carzetti non trattiene, Poli è pronto per il tappin, 1-0 per gli ospiti, la Ducato Spoleto protesta per un sospetto fuorigioco dell'autore del gol, ma assorbito il colpo prova a restituirlo e ci riesce al ventiduesimo. Cavitolo affonda a sinistra e duetta con Cola che arriva a sparare forte di sinistro in area, Rossi c'è, ma Cavitolo ha il destro facile sulla ribattuta. 1-1 e giochi riaperti, anche se nel finale il ritmo cala. Miccio appena entrato converge da sinistra e calcia di destro al trentacinquesimo, poi tra il 46esimo e il 47esimo la partita si decide. La Ducato Spoleto ha la palla match con la ripartenza, 4-2 diretta da Cavitolo, ma sciupa tutto al limite. Sul ribaltamento di fronte l'arbitro indica il dischetto del rigore sul contatto ai limiti dell'area tra Romani e Braccalenti. L'ex bomber di Foligno e Sansepolcro si incarica dell'esecuzione, il tiro è forte e centrale e consegna alla Tresimeno tre punti pesantissimi. Il calcio è anche questo, purtroppo bisogna saper accettare certe sconfitte, anche se c'è tanta amarezza, soprattutto per i giocatori perché avevano reagito un po' a una situazione che si era messa male. Ci avevamo provato, ci avevamo avuto una bella occasione, un 5 contro 2 pulitissimo, ad entrare in porta con la palla e non l'abbiamo sfruttato. Poi il calcio ha voluto che un episodio dubbio, così come tanti altri, mi sono sembrati i dubbi, però a me quegli arbitri preferiscono non parlarne. C'è tanto rammarico da parte dei giocatori sicuramente perché è un'altra battuta dal resto che non meritavano, però se vogliamo continuare ad andare avanti bisogna sempre mettere quella rabbia che c'è stata in tanti frangenti anche della partita di oggi e abbassare la testa in questo momento come giusto che sia e poi da martedì se c'è la possibilità di ripensare già a domenica, perché questa è una squadra di grandi valori che in queste due partite vuoi per un pizzico d'attenzione in meno, vuoi per qualche errorino di troppo e ci può stare e ha smarrito un po' i risultati che meritava di fare. Sì, è stata una partita ben giocata da entrambe le squadre, anche dal punto di vista tecnico secondo me e devo dire anche che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quello che il campo ha fatto vedere perché sono state occasioni di ambo le parti e obiettivamente oggi la ruota è girata a nostro favore, se abbiamo ancora da recuperare qualche punticino perché le prime due giornate l'aria vendata invece ce l'aveva magari detratti, però sicuramente come hai detto è una gran vittoria perché questa è una squadra di alta qualità soprattutto nel reparto offensivo e fare sicuramente tre punti qua non tutti ci riusciranno, anzi credo che sarà molto dura perché la Ducato me l'aspetto nelle zone alte della classifica a fine stagione.